Prima di sentire i nostri politici a Valle Rossi e a Bertini, ogni volta che parliamo di queste periferie vediamo paesaggi che sono tutti un po' uguali, quelli ripresi tristemente da alcune serie anche di successo televisive. È un contesto che sembra tutto uguale nel suo essere un degrado continuo. Il contesto stesso di abbandono anche degli edifici, dei luoghi, abbiamo visto quella piscina simbolo del centro sportivo abbandonato di Caivano, possono contribuire a creare un contesto anche umano diverso da quello di altre periferie? Io non sono un sociologo, però a me sembra abbastanza evidente il fatto che un territorio abbandonato a se stesso non possa favorire lo sviluppo di una società che sia in armonia con il luogo in cui si vive. Lì, in quei posti, non molto distante da lì, ad esempio c'è la famigerata terra dei fuochi, che probabilmente è uno dei luoghi più contaminati d'Europa. E questo è il quando bruciano questi roghi e la gente uscendo di casa vede colonne di fumo acre, soffocante, vede uno spettacolo di devastazione. Certo, questo non incoraggia poi ad amare il territorio, a prendersene cura. Ecco, le immagini sono queste che stiamo vedendo, insomma. Io quello che ho sempre detto in questi casi, la prima cosa da fare, prima ancora per carità, che le autorità siano presenti, le forze dell'ordine sul posto e non vengano abbandonati, i pochi volontari che si prodigano nel recupero di una condizione di vivibilità, è la ricolonizzazione di questi posti. Ci sono stati degli esperimenti da stazioni che erano luoghi di degrado, di spaccio, di delinquenza, nel momento in cui si sono trasformate queste, perché sono diventate anche magari dei centri commerciali, perché si sono cominciate a svolgere delle attività che hanno richiamato la gente. Ecco, che laddove arriva la società civile viene contenuta, se non del tutto espulsa, la criminalità. A Torbella Monaca, ad esempio, era uno dei casi più ragguardevoli, più notevoli. Un esperimento che era stato fatto era il teatro, un teatro che richiamasse gente. Quindi riportare attività vitali lì dove... Esatto, attività vitali e gente che non è di quel posto e che arriva. E quanto più arriva la popolazione che non è residente lì, tanto più è contenuto il fenomeno e non può dilagare, perché quegli spazi vengono fisicamente occupati dalle persone. Mi ha fatto venire in mente una cosa, parlando di emergenze che diventano strutturali, come quella dei migranti per esempio, abbiamo lasciato fuori dal Novero una serie di avvenimenti climatici che un tempo erano definiti emergenza, che stanno invece diventando la normalità, così come gli sbarchi dei migranti. Quindi qualsiasi governo di centro, di destra o di sinistra dovrà fare i conti in futuro anche con questo e l'alluione in Emilia Romagna ne è una delle prove. Ma abbiamo assistito, ve lo chiedo a Rossi Albertini, nei giorni scorsi a Grandinate, in luoghi dove prima non succedeva, con chicchi grossi come delle palle da tennis e nubi fragili su Milano, su Genova, su Torino. Abbiamo imparato a conoscere anche fenomeni nuovi, il famoso, anzi famigerato, downburst, che non abbiamo capito bene in cosa consista. La domanda è, dobbiamo abituarci oltre a questi cambiamenti climatici all'esistenza di piccoli tifoni, piccoli uregani come quello che sta colpendo la Florida in questi giorni anche in Italia? Allora, per dare continuità al discorso, gli investimenti sono necessari ovviamente nelle periferie per il recupero della qualità della vita, di una società che sia più coesa e in un ambiente più idoneo ad ospitarla. Non dimentichiamoci che però uno degli effetti che adesso inizierà di spiegare tutta la sua virulenza è proprio questo a cui accennavamo, cioè i soldi, di soldi ce ne saranno sempre di meno perché noi dovremo rincorrere l'emergenza. Dicevi giustamente, che cos'è il downburst? Che cos'è il medicain? Sono tutti termini nuovi, neologismi, che adesso dovremo iniziare a conoscere e utilizzare magari traducendoli in italiano perché ci riguarderanno, ci riguarderanno sempre più frequentemente quindi il richiamo è questo, è vero che gli investimenti in un momento di crisi economica dovuta alla pandemia, dovuta alla guerra in Ucraina e a tutte quante le altre congiunture che da questi discendono in epoca di crisi economica è difficile riuscire a reperire fondi però ricordo che ogni euro investito in prevenzione sul territorio corrisponde al risparmio di 10 euro per il risanamento, per la ristrutturazione, per il ripristino della condizione iniziale quindi bisogna vedere adesso, se ne discuterà nella manovra economica se sia opportuno, e io dico che lo sarà e molto, investire su questioni inerenti il dissesto idrogeologico cioè se noi vogliamo avere una capacità di spesa non dobbiamo dissipare i quattrini che abbiamo a disposizione andando a ricostruire, perché adesso ad esempio in Emilia Romagna per riuscire a recuperare lo statu quoante, quella devastante alluvione che si è verificata nel giro di pochi giorni, lo ricordo, non è stata una stagione intera di piogge dovremmo spendere tanti tanti soldi invece se avessimo fatto i lavori, lo so che ci sono cantieri, lo so che ci sono finanziamenti ma quella tanto invocata, cabina di regia, quell'organo che possa predisporre in maniera organica, in maniera strutturale gli interventi è quanto mai urgente Assolutamente, è arrivata adesso la notizia che riguarda il punto sullo stretto cavallo di battaglia di Salvini sapete che nella manovra c'è anche questo, c'è la richiesta di finanziamenti per poter posare la prima pietra entro la prossima estate così come è promesso il ministro delle infrastrutture lui dopo 52 anni l'obiettivo è avere per le strade prossime di questi tempi i cantieri aperti per il ponte più ambizioso, moderno e ingegneristicamente sfidante del mondo approfitto della presenza di un fisico in studio per chiedergli che idee ti sei fatto da un punto di vista dell'opera di ingegneria del Ponte dello Stretto? Io conosco bene la Sicilia, la adoro giro per la Sicilia e mi domando questo indipendentemente poi dalle questioni tecniche la viabilità in Sicilia ha bisogno prioritariamente del ponte o magari non si potrebbe fare un pacchetto complessivo di cui il ponte sia la conclusione e invece le infrastrutture sull'isola siano prioritarie una battuta soltanto perché siamo in chiusura abbiamo bisogno di lavoro? i lavori verdi i lavori verdi c'è una messe infinita di nuove attività che possiamo cominciare a svolgere anche nelle periferie che mettono a riparo il nostro territorio dai guasti a cui abbiamo assistito anche semplicemente quest'estate iniziamo a parlare di questo i nuovi lavori ci sono non concentriamoci soltanto sulle vecchie professioni c'è un mondo che si sta aprendo la tecnologia del XXI secolo tutti quanti potremmo giovarcene allora